Il video di oggi riguarda lo strumento anteprima suggerimenti e come possiamo utilizzarlo per risparmiare un sacco di tempo. La prossima volta che avrai bisogno di separare in due colonne una colonna di nomi o riportare quei nomi con le maiuscole al posto giusto o ancora ottenere le sole iniziali non avrai bisogno di cercare soluzioni pazze o formule complesse. Anzi non userai formule affatto userai semplicemente lo strumento anteprima suggerimenti ma come si fa potrei fare questo ma come si ma come si fa vivi ma installato l'app. Se solo potessi si può fare questo. Ma come si fa? Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale il mio nome nico e oggi ho preparato alcuni esempi giusto per darvi un'idea dei diversi casi in cui potrete utilizzare anteprima suggerimenti. Nel primo esempio abbiamo il nome completo di alcuni impiegati e vogliamo ottenere nome e cognome in colonne separate. Un'opzione è quella di usare anteprima suggerimenti. Tutto ciò che devo fare è trascrivere il nome della prima persona e fare doppio clic sull'angolo in basso a destra di questa cella. Excel mi copierà automaticamente quel nome per tutta la colonna. A questo punto sotto l'ultima cella comparirà il menu opzioni riempimento automatico. Ci clicchiamo su e scegliamo dalla lista l'opzione anteprima suggerimenti e qualcosa di magico è successo. Excel cerca di riconoscere un criterio logico da seguire per il riempimento automatico delle celle. Proviamo adesso un metodo diverso nella colonna cognome. Inseriamo il primo cognome, premiamo invio e continuiamo con il secondo cognome. Questa volta la magia è ancora più grande. Excel mi ha immediatamente individuato un criterio possibile e me lo suggerisce. A questo punto devo solo premere invio e la magia è completa. Questa è la potenza di anteprima suggerimenti. Ci sono due eccezioni da tenere bene in mente. La prima è che i criteri che Excel utilizza per darci suggerimenti sono validi solamente se la cella che contiene il valore sorgente è sulla stessa riga della cella di destinazione. Se provassimo lo stesso sistema andando più in basso nella colonna riceveremmo un errore che ci dice che Excel non ha riconosciuto nessun criterio che gli permetta di suggerirci i dati da riportare. La seconda eccezione è che anteprima suggerimenti non funziona in maniera dinamica. Noi non inseriamo alcuna formula nella cella quindi se noi andassimo a modificare una parte dei dati la colonna che si era riempita automaticamente in precedenza resterà invariata. Se ciò dovesse succedere la nostra unica opzione sarebbe quella di ripetere l'inserimento manuale e richiamare nuovamente l'opzione anteprima suggerimenti. Adesso proviamo un altro metodo. Questi sono i nomi completi dei dipendenti della nostra compagnia e a tutti viene assegnato un indirizzo email aziendale che è composta da nome punto cognome chiocciola azienda punto com. Inseriamo il primo indirizzo email diamo l'invio e poi premiamo la scorciatoia control più lettera e un'altra giornata di lavoro risparmiata. Passiamo velocemente alla prossima tabella in cui vediamo che i nomi e i cognomi sono stati scritti in maniera abbastanza confusa dal punto di vista delle maiuscole e minuscole. Vogliamo riscrivere la stessa lista inserendo le maiuscole e le minuscole ai punti giusti. Inseriamo il primo nome nella maniera corretta e questa volta voglio farvi vedere come richiamare lo strumento anteprima suggerimenti direttamente dal menu riempimento. In questo caso dobbiamo selezionare prima di tutto l'intera parte della colonna che ci interessa. Poi andiamo sul menu riempimento che in genere si trova sotto il simbolo della somma automatica e in basso nella lista ritroviamo la nostra ormai amata anteprima suggerimenti. Un click e la lista che prima era da orrore è diventata da Oscar. Abbiamo visto i quattro sistemi diversi che abbiamo per richiamare lo strumento anteprima suggerimenti. Utilizzeremo ovviamente quello che ci torna più comodo. Passiamo a un'altra lista in cui abbiamo nomi e cognomi e vogliamo generare una lista con le sole iniziali. Come al solito compiliamo la prima cella, diamo invio, facciamo finta di voler continuare ma la nostra cara anteprima ci impedisce di fare il nostro lavoro e sì, vuole darci il cambio. Notare in questo caso che Excel ha anche riconosciuto laddove nome e cognome era composto da più di due parole e ci ha dato quindi iniziali con tre lettere in questo caso. Avanti il prossimo. In questo caso voglio provare un esperimento al contrario, ovvero voglio ottenere nome e cognome in una sola colonna partendo da due colonne separate che contengono i dati sorgenti. Inoltre la destinazione questa volta si trova sulla sinistra della sorgente. Inseriamo nome e cognome nella prima cella, ci guardiamo intorno con sospetto, premiamo CTRL E e pare proprio che per colpa della nostra assistente sociale rischiamo di non avere più un lavoro. Adesso vogliamo provare qualcosa di diverso. In questa lista abbiamo alcuni articoli da uomo e alcuni da donna, distinguibili dal fatto che terminano rispettivamente con una U oppure colonna D. Voglio una colonna che mi indichi semplicemente U e D a seconda se l'articolo era da uomo o da donna. Usiamo il sistema veloce, inseriamo i dati nella prima cella, diamo invio, premiamo CTRL E e mi sa che siamo salvi. Ci riprendiamo il nostro lavoro. Eh sì, questa volta il suggerimento è completamente sballato come vedete. Ovviamente la cosa è volutissima ed è necessario capire che lo strumento anteprima suggerimenti non è infallibile o perlomeno dobbiamo capire che il suggerimento che viene dato viene dato in base a certi criteri. Ora se l'unica cella che noi abbiamo inserito contiene un carattere che può essere interpretato da parte di Excel in due modi diversi, come in questo caso, e questo partendo dal presupposto che la prima cella sorgente contiene la lettera U sia all'inizio sia alla fine. Quindi Excel non può in alcun modo sapere se la nostra intenzione fosse di riscrivere il primo carattere o l'ultimo. Ecco il motivo per cui viene semplicemente chiamato suggerimento. Sta sempre a noi valutare se il suggerimento è accettabile in base alle nostre esigenze. Se non lo è possiamo provare a dare ulteriori informazioni affinché Excel riesca a trovare un criterio univoco in modo da darci un suggerimento sicuramente accettabile. Proviamo quindi a inserire manualmente i dati anche nella seconda cella. Riproviamo con CTRL E e questa volta otteniamo un suggerimento accettabilissimo. Questo perché valutando i primi due dati inseriti non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo inserito entrambe le volte certamente l'ultima lettera della cella sorgente. Insisto sul fatto che questa anteprima suggerimenti può fare sì grandi magie ma per quanto riguarda i miracoli mi sa che dobbiamo rivolgerci altrove. Prima di passare all'ultima serie di celle vi propongo una sorta di sfida che non ha nulla a che fare con Excel. Avrete notato almeno lo spero lo strano nome del prodotto inserito qui nella prima cella. Ebbene il mio scopo ovviamente era quello di ottenere un errore utilizzando una lista di accessori da uomo e da donna e per poter ottenere quell'errore era necessario mettere nella prima cella o un articolo da donna che cominciasse con la lettera D oppure un articolo da uomo che cominciasse con la lettera U. Ebbene credeteci o no non mi riesce a venire un mente né uno né l'altro. Quindi ho deciso di optare per un prodotto inventato ma il punto è esiste un accessorio da donna che cominci per D o un accessorio da uomo che cominci con la U. Per favore se lo trovate scrivetelo nei commenti perché io sono certo che stanotte non ci dormirò. Ovviamente deve essere un termine italiano altrimenti avrei tranquillamente usato underwear da uomo come normalmente faccio. Allora facciamo così se avete la risposta scrivetela nei commenti e se mettete anche un mi piace e vi iscrivete al canale vi pago una cena nel miglior ristorante della mia città. Ovviamente tanto per essere chiari se non siete dei dintorni il viaggio lo pagate voi. Quindi datela sotto trovate la soluzione e ci vediamo a Boston. Passiamo finalmente all'ultima serie di celle dove vediamo una lista di date. Vogliamo ottenere una colonna che indichi solamente l'anno. Usiamo la procedura veloce, inseriamo il primo anno, premiamo Ctrl E e anche questa è fatta. Tutto liscio come la scalinata di Trump. E siamo alla fine di questo tutorial dove abbiamo testato in ben sette blocchi di celle diversi lo strumento anteprima suggerimenti. Abbiamo visto ben quattro modi diversi per utilizzarlo e abbiamo capito il motivo per cui non sempre i suggerimenti sono accettabili. Inoltre vi ho spiegato che lo strumento è utilizzabile solo se ci sono alcune condizioni e vi ho detto anche che i risultati non funzionano in maniera dinamica. Il Lucano però lo mettete voi. Spero che i consigli trovati in questo video vi possano tornare utili in futuro. Se è così vi chiedo di lasciare un commento qui sotto. Fatemi sapere se ritenete che questo strumento possa tornare utile o meno. Se volete potete anche porre le vostre domande e cercherò di rispondere a tutti. Sempre se volete potete anche richiedere video specifici su Excel e io cercherò di accontentarvi. Non dimenticate di mettere un bel mi piace cliccando su questo bel simbolo e se l'argomento vi interessa iscrivetevi al canale in modo da essere sempre i primi a sapere quando rilascio un nuovo video. Grazie per l'attenzione e come al solito sta da baboon. Ma come si fa? Ma si può fare questo? Ma come si usa? Ma come si fa? Ma hai installato l'app? Ma si può fare questo? Ma c'è un app per questo? Ma come si fa?